Doppio appuntamento in Camera di Commercio della Venezia Giulia, da un lato l'ufficio di presidenza di Union Camere che ha scelto di riunirsi a Trieste incontrando anche l'edizione 55 di Barcolana, dall'altro le premiazioni della seconda edizione dei Blue Marine Awards, il progetto di sostenibilità ambientale che premia le realtà più virtuose. Presente per i saluti istituzionali ai rappresentanti di Union Camere, anche il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Dei saluti che però vorrebbero anche trasformarsi in una proposta di collaborazione, penso per esempio al Big Science Business Forum in cui penso che le Camere di Commercio possano svolgere un ruolo importante portando l'innovazione della produzione italiana a Trieste in quell'importante occasione. Non solo, stiamo lavorando anche per un coinvolgimento delle Camere di Commercio Estere al fine di coinvolgerle insieme alla Conferenza delle Regioni per la promozione dei territori all'estero, una collaborazione che può portare nuove opportunità al Paese. È un invito che abbiamo assolutamente accolto con grande piacere perché riteniamo che il rapporto tra la Friuli Venezia Giulia e il sistema camerale è nella veste del presidente Fedriga come presidente della conferenza Stato-Regioni, quindi a livello nazionale, quella relazione col sistema camerale nel suo insieme è assolutamente necessaria, utile per il Paese. Il legame con questa città e col presidente Paoletti è un legame molto forte, il presidente Paoletti è vicepresidente vicario di Union Camere, quindi io sono già venuto altre volte per altre circostanze, era mi pare doveroso in questa circostanza invece avere un incontro dell'ufficio di presidenza di una città splendida come Trieste in occasione di un evento che è tra i principali eventi sportivi della nazione, quella della Barcolana, un evento che va oltre l'aspetto sportivo, un evento che caratterizza questo territorio e qui particolarmente la Camera di Commercio di Trieste ha fatto moltissimo per questo territorio, con iniziative sempre di alto spessore e la presenza del sistema camerale qui in Venezia Giulia è molto sentita. Ho voluto portare a Trieste nell'ambito della Barcolana l'ufficio di presidenza di Union Camere, primo per far vedere Trieste in piena festa, ma soprattutto abbiamo fatto un incontro con il presidente Federiga su due temi, barra tre, importanti per lo sviluppo della nostra regione ma nel discorso Italia. Il primo tema è stato, il prossimo anno avremo un grande evento del Big Science Forum qui a Trieste e il sistema camerale italiano darà una grande mano a questo evento coinvolgendo tutte le ex 105 Camere, oggi 60, a portare sia imprenditori sia le conoscenze di tutta Italia, ma e non solo, attraverso le Camere di Commercio italiane all'estero porteremo anche contributi dai vari Paesi del mondo dove siamo presenti. Grande soddisfazione per il presidente Paoletti anche per essere riuscito a portare a Trieste i Blue Marina Awards. Si tratta di un premio ai Marina Blu in sostanza, l'Italia che doveva essere fatto a Genova, l'abbiamo portato a Trieste, è un evento importante dove andiamo a certificare i Marina che sono sostenibili sotto l'aspetto ambientale, sotto l'aspetto etico, sotto l'aspetto sociale. L'Inea nasce dal fatto che ancora nell'immaginario collettivo i Marina siano identificati come meri parcheggi di imbarcazione. Un'idea sbagliata perché i Marina oggi possono diventare centri di eccellenza, ben integrati al tessuto socio-economico di un territorio e quindi poterlo raccontare, valorizzare e di fatto diventare una porta d'ingresso al turismo esperienziale. Con questa idea quindi nasce l'iniziativa dei Blue Marina Awards che vuole sensibilizzare e accompagnare in un processo di miglioramento tutte le nostre strutture turistiche e portuali, quindi Marina, porti turistici e prodi turistici, in un processo di miglioramento su quattro temi fondamentali che sono quelli della sicurezza, dell'innovazione, della sostenibilità e dell'accoglienza turistica. Ovviamente l'Asternodica Italiana partecipa con grande entusiasmo a questo premio che premia le eccellenze e la sostenibilità, vedete uno dei temi più importanti che ci ha trasmesso l'Europa è quello di lavorare sulla sostenibilità e questo è uno dei primi driver che mette in moto nuove filiere intorno all'economia del mare. Noi abbiamo colto questo messaggio, premiamo le eccellenze delle nostre marine che sono i punti di accoglienza, una seconda edizione devo dire che il numero delle edizioni è pressoché triplicato, per cui insomma un grande risultato. Tra i Marina premiati alla Camera di Commercio della Venezia Giulia ci sono Marina Sant'Andrea e la Prodo Turistico Baia Levante. Ci troviamo in un posto meraviglioso che è la Laguna di Marano, siamo in mezzo al verde, in mezzo alla natura e cerchiamo in tutti i modi con fermezza di valorizzare e di preservare tutti questi valori. Tant'è che dal 2004 siamo bandiera blu e dal 2016 abbiamo la certificazione ambientale ISO 14001 per l'ambiente appunto. Essendo anche un Marina che è anche cantiere è un vanto per noi questo perché è un lavoro d'equip, di squadra non solo svolto dallo staff ma dagli operatori esterni e pure anche dal cantiere. Il nostro approdo si chiama Baia Levante, si trova a Vulcano, a sud appunto dell'arcipilogo delle Olie. Adesso siamo un piccolo approdo turistico, facciamo circa 100 posti barca tra pontili galleggianti e campo boe. Siamo un approdo stagionale e quindi apriamo da maggio fino adesso a ottobre. Stiamo sempre attenti al pianeta, alla salvaguarda dell'ambiente, abbiamo installato pannelli solari, acqua calda col fotovoltaico per quanto riguarda i servizi a terra. Cerchiamo sempre di accogliere il cliente nel migliore dei modi anche nel nostro piccolo. Ovviamente tutto questo anche grazie alla sinergia con tutti gli altri esercenti dell'isola che vive soprattutto di turismo.